ciao ragazzi come va? eccoci insieme per un nuovo inizio settimana come sempre apriamo la settimana con la sfida del risparmio 2017 allora, shakeriamo apriamo vabbè, è caduto questo, destino allora, arancione con questo bellissimo sorrisino bigliettino verde oggi mi cade tutto 44 euro benissimo, vedete il destino chissà cos'era l'altro va bene, quindi scriviamo siamo alla settimana numero 10 ed eccoci qua bene, vorrei dire diciamo che verso il periodo di Natale sicuramente avrò finito tutta questa metà pagina avrò tantissimi soldi da spendere in regali perché non dovrò metterne da parte per me bene ragazzi fatemi sapere come sta andando la vostra sfida e se riuscite a continuarla vi mando un grosso bacione e buona continuazione di settimana ciao ciao